e poi persone che pensano così e sperano con le loro opere di meritare la salvezza di essere più bravi di altri alla fine sono persone self righteous come diciamo in inglese pensano troppo di se stessi e non c'è posto per il signore salvatore gesù cristo rendono i tre scopi dovrebbe essere della legge di dio la legge di dio ha tre scopi numero uno uso pedagogico per rivelarci il nostro bisogno di un salvatore questo è il ruolo principale della della legge di dio che vediamo nel nuovo testamento i dieci comandamenti esistono anche per farci capire che abbiamo bisogno di un salvatore di gesù cristo abbiamo bisogno di salvezza da soli non possiamo salvarci abbiamo bisogno di un salvatore e la legge di dio è per noi una come un insegnante per farci capire il nostro bisogno scopo numero uno della legge uso numero uno è pedagogico andiamo a vedere un paio di versetti e poi vedremo anche ciò che insegnano i dieci comandamenti galati capitolo 3 versetto 24 leggiamo questo l'apostolo paolo ai galati diceva questo così la legge è stata nostro precettore per portarci a cristo affinché fossimo giustificati per mezzo della fede la legge è stata nostro precettore per portarci a cristo affinché fossimo giustificati per mezzo della fede succedeva nella nella chiesa lì galati che tante persone pensavano che per essere salvati bisogna circoncidersi come facevano ebrei bisogna seguire certe regole se uno vuole acquistare avere la salvezza poi arriva la buona notizia è che ci insegna come diceva gesù cristo se volete essere salvati bisogna essere perfetti e i discepoli hanno capito subito tutti loro nessuno è perfetto come possiamo salvarci poi gesù ha spiegato una volta che è molto difficile per i ricchi obbedire tutto quello che dice il signore perché il loro tesoro è spesso i soldi e i discepoli ma se è così nessuno può salvarsi nessuno può essere salvato gesù ha affermato sì per uomo la salvezza è impossibile ma per dio niente è impossibile dio è colui che ci salva e comunque tante persone oggi pensano che la salvezza si ottiene tramite le buone opere tramite le cose che noi facciamo oppure non facciamo in questo modo si merita si guadagna la salvezza e poi persone che pensano così e sperano con le loro opere di meritare la salvezza di essere più bravi di altri alla fine sono persone self righteous come diciamo in inglese pensano troppo di se stessi e non c'è posto per il signore salvatore gesù cristo rendono incapace in qualche modo gesù cristo per salvarci perché sono autosufficienti e questo non va bene il vangelo ci rivela come vedremo adesso nessuno merita la salvezza così diceva l'apostolo paolo qui nessuno merita la salvezza ma sono giustificati per mezzo della fede ciò che ti serve più di ogni altra cosa è essere davanti a dio giusto ma nessuno è giusto nemmeno uno dice l'apostolo paolo ai romani capitolo 3 nessuno è giusto nessuno è buono nessuno cerca dio come possiamo essere giustificati per la grazia mediante la fede in gesù cristo lui ha compiuto la legge di dio per noi lui ha preso il nostro la nostra punizione sulla croce per pagare il nostro debito di peccato e succede qui il grande scambio lui prende il nostro peccato sulla croce e in cambio ci dà la sua giustizia e per questo motivo l'apostolo paolo qui poteva dire giustificati per mezzo della fede la legge serve per farci capire per portarci a cristo ecco perché in tanti non non vogliono cristo perché non sanno di avere bisogno di cristo del salvatore la legge serve per aprirci gli occhi farci vedere che siamo colpevoli davanti il dio tre volte santo e abbiamo bisogno di salvezza la legge esiste per insegnarci portarci a cristo affinché per grazia mediante la fede siamo giustificati e possiamo essere giusti davanti a dio salvati in altre parole vedremo questo molto di più andando avanti con questo episodio oggi romani capitolo 3 versetto 19 e 20 leggiamo questo or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice lo dice per coloro che sono sotto la legge affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di dio perché nessuna carne sarà giustificata davanti a lui per le opere della legge mediante la legge infatti vi è la conoscenza del peccato e qui di nuovo vediamo l'idea che mediante la legge vi è la conoscenza del peccato grazie alla legge di dio i comandamenti di dio la legge morale di dio ognuno di noi ci rendiamo conto di essere peccatori di 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 aver trasgredito la legge di dio e di aver bisogno poi di conseguenza la salvezza abbiamo bisogno di salvezza perché siamo peccatori perché la legge ci ha fatto capire che non che siamo colpevoli ecco questa questa è l'idea che vediamo qui in questi versetti nessuna carne dice in più qui versetto 20 nessuna carne sarà giustificati giustificata davanti a lui per le opere della legge cosa sta dicendo qui in altre parole sta dicendo nessuno riesce a piacere dio perché ognuno di noi ha trasgredito la legge vedremo basta trasgredire una sola legge siamo colpevoli di tutte le leggi di dio ed è così ma meritare per opere nostre nella carne fare del bene o fare comportarsi bene non è sufficiente davanti al dio tre volte santo e come sporcizia davanti a dio santo non è sufficiente ci vuole una giustizia aliene come viene spiegato nel mondo teologico una giustizia non nostra cioè il giustizia di uno che è perfetto giusto e santo cioè gesù cristo stesso abbiamo bisogno della sua giustizia comunque l'idea qui uso pedagogico della della legge di dio per rivelarci il nostro bisogno di un salvatore un altro versetto qui possiamo vedere è questo romani capitolo 8 versetti 3 e 4 per questo primo uso diciamo della legge di dio infatti ciò che era impossibile alla legge in quanto era senza forza a motivo della carne dio mandando il proprio figlio in carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne affinché la giustizia ecco della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne ma secondo lo spirito che noi camminiamo secondo lo spirito se siamo adesso nati di nuovo questa è l'idea che vogliamo vedere quindi un paio di cose qui che possiamo dire di nuovo uso pedagogico della 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 legge di dio come maestro per istruirci del nostro bisogno della salvezza la carne cioè il nostro essere senza la nuova nascita ogni persona non nata di nuovo spiega la bibbia ogni persona ancora non rigenerata per opera di dio sovrano sta vivendo soltanto secondo la carne di che cosa consiste la carne la mente emozioni e corpo stesso siamo tutti semplicemente carnari in questo senso finché non siamo nati di nuovo oppure vivificati per opera di dio spirito santo e quando succede questa vivificazione o rigenerazione altre volte viene chiamata la nuova nascita senza questa siamo non abbiamo dio spirito santo dentro di noi ma quando nasciamo in dio siamo dati lo spirito santo ora dio stesso dimora dentro di noi per istruirci per farci capire la verità per farci capire la parola di dio la volontà di dio leggendo le scritture ora è come se avessimo occhiali per vedere finalmente tutto chiaro e ci dà forza ci dà potere per obbedire e per rinunciare a peccato ciò che non ci soddisfa più e andare avanti seguendo il nostro signore gesù cristo il re di tutti i re il signore di tutti i signori e possiamo vivere poi per lui per onorare dio e glorificare dio in questa vita quando nasciamo in dio e abbiamo poi una vita anche spirituale in questo senso non siamo più poi morti spiritualmente e ultimo per questo uso pedagogico della legge di dio vediamo giacamo capitolo 2 versetto 10 e ci istruisce ci dice questo chiunque infatti osserva tutta la legge ma viene e meno in un sol punto è colpevole su tutti i punti i punti della legge quindi qui di nuovo l'idea che tanti tanti pensano di essere abbastanza buoni e bravi per meritare la salvezza se chiedo delle persone sei abbastanza bravo per andare in paradiso spesso mi dicono sì penso di essere una una buona persona non ho ucciso nessuno dai sì dio è amore tutto bene no sarò accettato da dio non sono come quelli là fuori di testo in quell'altro paese ad esempio spesso il ragionamento è questo ma vedremo adesso il modo in cui ci istruisce ci porta a cristo la legge di dio in questo modo qui basta essere essere co aver trasgredito una sola legge e siamo colpevoli di tutti quindi velocemente basta pensare non mentire dice la legge di dio adesso vedremo i dieci comandamenti non mentire ma quante volte non hai detto la piena verità quante volte per guadagnare un posto migliore hai detto una bugia o per non dover subire qualche punizione hai mentito tante cose di questo tipo nella vita ce ne sono e basta trasgredire una sola legge arriviamo davanti al giudice e siamo colpevoli non puoi arrivare al giudice e dire senti sai però quello era tanti anni fa e dopo ho fatto tante cose buone sai giudice non mi puoi condannare non funziona così se abbiamo fatto un reato siamo colpevoli e qualcuno deve pagare questo è il punto che adesso vedremo grazie per aver visto questo clip dell'episodio se vuoi vedere l'intero episodio c'è un link nella descrizione di questo video allo stesso tempo ti invito a iscriverti al canale così facendo vedrai ogni volta che esce un nuovo episodio e se vuoi sostenere questo canale o questo podcast ti invito a lasciare una recensione da cinque stelle dovunque ascolti e così facendo aiuterai altre persone a trovarci e ricevere le benedizioni dalla parola di Dio che che Dio ti benedica ciao ciao